rinchiudiamoci la dentro ragazzi dove sta andando Oz? lascia la porta aperta Dabbi ce la fai a chiuderla tu? no entra muuti spegnite le riuscite lo spende il nostro corso gratuito www.mesmerism.info sale, movimento, MF sale, specia ah MF è mio, mio togli ti piega LMF ah non vedevo l'ora di prendere LMF, sono contenta sensore sonoro ma secondo me questo termometro serve? portiamo allora intanto si chiama Patricia Martinez e dobbiamo vabbè scoprire che fantasma è oh 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 Patricia inconosciuto che live è? che live? che location è? prison no ragà la prigione no con quelle celle che mi mettono cazzo che paura con le celle allora allora che ci portiamo? mi ricordo quella volta che stavamo pure con Eni è uscì la tavola Ouija e stemmo voi mezz'ora per capire cosa stava scrivendo e poi la mori male io la mori male eh non si capisce la tavola Ouija porto la tavola Ouija allora la dovevi fare le giuste domande era molto antipatico ah sensore di movimento mettere MFM porto il sale pure no è inutile ah qua ci vuole qualcuno che si mette guarda si compagno le palluccelle no io devo prendere la live action camera la live action camera non l'hai messa ancora? ma l'ho messa mamma che che scosciatura aspetta che cosa è che non ho portato qualcosa e e ci portiamo ci portiamo non so il crocifisso in realtà nella prigione credo non serva a niente però non serve a nulla sei pazzo ma se serve a niente che è talmente grande che se compare da una parte il fantasmo non si frega eh però se lo metti dove sta dove dovrebbe apparire eviti che se sta dove starebbe non andrebbe dove stessa se sta dove starebbe stando nella stantità penso che potremmo potremmo starci si va bene ragazzi ma quindi che stiamo a fare io ho preso l'MF e basta e ma scusate non devo portare qualcos'altro ah solo MF no che non so il crocifisso sale 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 no sale 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 ma me lo sto chiedendo da prima no raga non mi sentite più io vi abbandono fra poco sì ciao allora io sono con il sensore sonoro avete mai letto quello che sta scritto qui all prison all person entering vabbè vabbè ma vedete presto che ma ci pagano ottimo a nemore penitenziario il department un'altra correzione penitenziario ma grazie un osso avete la marchio fotografica non ce l'abbiamo vabbè sta qua quindi possiamo farlo quando vogliamo un osso appena entrare sei gradi ma dove andremo 8 grati ragazza quasi sicuramente sta in uno dei due blocchi io direi andiamo direttamente là io odio i blocchi i blocchi sì sicuro sta sempre in questo blocco destro che io odio come si chiamava quello là quello stuntman che faceva anche con la macchina da rally tutti quei drift blocchi blocchi il cognome allora ragazzi qua 5 gradi mi porta sì ma in tutta la prigione ti portava 5 gradi o sbaglio anche lì sì oh ha rilevato dei suoni da qua da questa stanza qui infatti un grado ora che stiamo arrivando si sta abbassando ma non siamo metrati in questa 2 gradi oh cacchio è vero no 5 gradi qua 5 gradi eh ma secondo me potrebbe essere questa la stanza cioè prima ha rilevato dei suoni però è vero prima si è abbassato di colpo 7 gradi 0 gradi secondo me sta qua al centro perché se te li portava di qua no le mf se te lo portava di qua magari intendeva la soglia no può essere la soglia la soglia ma è brutto senza macchina fotografica eppure se ci attaccasse scappiamo senza fargli foto no terribile vabbè buttiamo il crocifisso qua dentro così per sicurezza 0 gradi allora dovevo capire qua mi porta a 0 gradi l'mf oddio perché 17 17 di decibel è perché ha chiuso la qualche porta no l'ha aperta una di quelle due l'ha aperta comunque io allora indicando mirando verso l'alto poco fa meno temperatura di congelamento perfetto uh uh dabbè ti ha suonato l'mf no non l'ho visto ho sentito il suono meno un grado meno due gradi ragazzi temperatura di congelamento ti giuro ragazzi chi ci segue ha sentito il suono come l'ho sentito sì 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 era una porta che si apriva o si chiudevano vedi non era l'mf meno due gradi qua c'è la temperatura di congelamento ma allora è qua dentro è qua 08 gradi no no me la portava me la portava no se entro qua risale sta nel corridoio qua ragazzi eh ha chiuso una di queste porte qui che l'ha aperta che vedi sono tutte chiuse lasciate lasciate il crucifisso allora io non ce l'ho lo tenevo il sale l'ho buttato l'ho buttato andiamo allora il sale andiamo a prendere gli altri oggetti oh ha risposto dove come ha detto yes no ho detto io yes no no io l'ho sentito è stato lui deficiente ma come volevo scherzare ma non lo so vedi anche er me ha sentito l'mf quindi era là con le parti raga non c'è l'mf l'mf non ha suonato lo vedevo se lo avevo davanti agli occhi e l'ho sentito non l'hai guardato e vai io a tagliare l'amplifon c'è due ragazzi non fate sei sordo ricordatevi che non stiamo facendo un video sponsorizzato e poi la gente va lì compra l'amplifon ecco lo sapevo che faceva ma perché questo gioco non si può tramutare in un calcio e pugni improvvisi ma giusto ma io li buono vedi noi che ci vediamo a pacchi del fantasma no se dove il fantasma si unisce un paio di cappottoli allora la macchina la prendo pure io raga ma non mi avete fatto lasciare sale ma avete fatto in sala animale ho capito la battuta ma che ti sei portato l'MF dietro si eppure il sale cioè tu sei venuto inutilmente ora devi rientrare con gli stessi oggetti inutilità butta la torcia e vai a tentoni vabbè io porto io c'ho la macchina fotografica e il sensore di movimento il movimento del sensore ma io ma ancora qua dentro stiamo guarda Dabbi Dabbi si è suonato l'MF mi devi dare 5 euro ah è vero ha suonato ma raga non l'ho proprio visto mannaccia si può tornare indietro nel tempo e dico che l'ho sentito ok che aveva ragione vabbè anche io però dal mio punto di vista allora io porto la videocamera che squadra che squadra che squadra il sensore di movimento l'abbiamo portato il movimento ce l'ho io ok ragazzi ce l'ho io ma io ho queste cose di prima ok andiamo ma l'MF lo lascio qua no no ma porto se sono al 5 magari arriva a 5 però poi il buttolo là ma per madonna quando camminate con sto cavalletto ragazzi devo ripresa eh ripresa dei canali quelli là belli riprese tipo andiamo a intervistare il fantasma eh ti è caduto cavalletto già si è rotto si è rotto no aspetta un attimo un attimo dei problemi con il cavalletto eh perché è un po' mancato questo ma qua ci sta scritto stop don't enter until instructed che è bell'inglese fate la foto all'osso che io non posso cambiare oggetto fin quando non posso sta cosa ma non c'è più ah si spostate andiamo aspetta faccio un'altra foto che quello si banga ci diamo la luce ok vediamo a mettere sto cavalletto io mi immagino questi tre poveri sfigati che a un certo punto si fermano usci un osso fotografiamo un osso ma ce ne può essere più di uno di osso è una cosa molto interessante da scoprire non lo so da scoprire un'altra volta allora lo metto qua nell'angolo la hai sempre ragione mettilo là nell'angolo io dove lo metto il sensore quindi devo premere solo G giusto si ok l'ho messo è accesa c'è sta il pollino verde metto il sensore di movimento su una colonna se me lo fa a mettere si che altro ho portato? dove devo metterli il sale me lo dite? butta la qua a terra si provo a vedere pure qua no 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 non vicinissimo però eh le ho messi tutti vicini ciao no un po' sbittanti cazzo che ci metti affanti e due vicini vabbè butta il sale butta l'MF andiamo oh raga l'altra volta prima oh aspetta da 1000 hai buttato l'MF per terra no e buttalo perché così puoi prendere un altro oggetto andiamo andiamo ma tutto di corsa è qua oh io prima l'ho messo vicino il sale eppure funziona e funziona però magari potevi metterlo capito? eh lo so potevamo metterlo anche sopra ma non è che ci avete mai pensato che qui nella prigione ci sta il fatto che ci stanno due piani? no però ho pensato sempre che OZVEN quando si tratta di andarsene è sempre il primo uscire vola come una nuvola è un fulmine cerco di essere ma non lo so ma poi probabilmente è più veloce capito? eh c'è il trucchetto quando è strano il personaggio che cammina senza oggetto sembra che c'è eh un palo super una cosa esatto allora vediamo se si vede la videocamera speriamo di sì stava acceso stava la cosa verde quindi sì si deve vedere il sensore di movimento non la rilevamo Dabby si mette davanti giustamente eh ma io devo vedere questa è la live action camera ora mi ha rilevato ragazzi mi ha rilevato il sensore di movimento guardalo sta lì dovresti rivederlo dove sta la telecamera? aspetta sta in un angolo no non è questa questa no questa è neanche questa volta ma è l'ho messa stava verde vedi che si banca dovrebbe essere più avanti ma questo cavalletto non lo sopporto no non lo prende è il sensore no raga non ho preso la telecamera mamma mia perché non ha cambiato sul sale vedi che si bugga vabbè mo se l'avevo messa io non si accendeva allora andiamo adesso io la tolgo dal cavalletto che non serve a niente e poi mettiamo anche il sale nel resto della stanza prendi il sale odds si che altro posso portare? io che prendo? sto parte palle prendi il crocifisso vai ma dove sta? aspetta ti do anche il corso a luci ultraviolette dai e che ci serve? ah l'UV ah si io ce ne ho tre c'ho c'ho lo spirit box la macchina fotografica e la torcia Dabbi quanti oggetti c'hai? nessuno ehi prendi la torcia UV c'è la torcia UV qua Dabbi sta là ma dove sta? qua sopra dove? sta pure accesa sta qua qua ma dove l'avete messa? andiamo mamma mia passa pure il costo della temperatura no basta c'è il crocifisso eh vaffancapo no io lo devo faccia da notare che io sono l'ultimo ad entrare adesso è sempre il primo ad uscire ma prego vai su passaci pure vai vieni vieni ho sentito il rumore raga ho sentito il rumore pure io ma ho fatto io passando alla vicina si si ah ok pensavo fosse già il fantasma che ci stasera sono sordi cieca curve 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 ma comunque dobbiamo capire principalmente che fantasma è eh abbiamo solo temprato di cancellamento si si dobbiamo capire perché continuiamo a giocare a questo gioco anche perché non possiamo giocare che ne so con è un gioco carino e cuccoloso con i mini poni con gli orsacchiotti cuccolosi no con questo abbiamo un gioco allora mettiamo un po' di sale qui che qua è insipido quindi che devo fare F lo mettiamo un po' di sale qua nella cella che secondo me è una di queste due celle ma la telecamera dov'era? sto cercando di posizionarla non me la fa posizionarla ma mettila sul tavolo qua eh no così vedo tutto da qua a terra da qua dietro ecco qua non c'è niente ma siete sicuri che sta qua raga? raga secondo me è dentro sta cella dove? così a caso questa qua lui l'ha rilevato però c'è mi so avvicinato c'è la temperatura di congelamento dove sei? l'ho messo io e sa sì ma perché avete messo quanti anni hai? sei amichevole? eh comunque vuoi che andiamo via? tua madre batte la notte? non mi risponde sei molto antipatico abbiamo qualche altro oggetto il crocifisso dove l'avete messo? no non l'ho messo lo metto allora ascoltami il sensore di movimento che hai messo qua ha suonato quindi la linea di azione questa qua sarà lui starà qui forse qua vicino al muro proprio secondo me secondo me sì ma comunque sta in questa in questa mettilo qua un po' di sale secondo me vicino a dove? già l'ho messo però mi spiace già ho salato la stanza raga ha camminato dove? qui 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 ragazzi lo dobbiamo trovare un po' di impronte digitali eh sto andando a vedere vicino alle porte le vicino di andare piano cioè di muovere piano la visuale ragazzi se ci attacca se ci attacca usciamoci da qui e poi andiamo nell'altro braccio della morte si vedi vicino alla porta qua che prima l'ha aperta niente non mi ascolta da dove? la porta della la casa dell'ha aperta in giù oh vedi vicino alla porta qua è vero è vero qua si sta mettendo paura l'abbia infatti con questi sbarri non capisco no qua perché mi scordi si sta chiudendo dentro sei in arresto ragazzi scusatemi ma dove? dabbia punto un attimo qua punto un attimo qua su in questa cella sul muro la zona alta ok no come l'ho detto mi sono flashato è perché poi alla fine la torcia un vite lo vede anche da lontano non c'è bisogno che altro dobbiamo portare? come si chiamava sta cristiana? ah si ma è caduta la telecamera comunque no no l'ho tolta io ah l'avevi messa così che non vediamo più la telecamera perché la mettiamo qua non c'è problema è accesa ci sa cosa guardi è accesa ho paura io me ne vado c'è per l'altro non ho capito lui se ne va subito ma perché te ne vai? andiamo ah non lo so andiamo a prendere l'ultimo oggetto state lasciando da sola si eccomi camminiamo culo a culo ma sta attaccando? si ok sta attaccando sta attaccando era io che facevo lo scemo prima ma ora sta attaccando davvero rinchiudiamoci là dentro ragazzi dove sta andando odds? lascia la porta aperta Dabbi ce la fai a chiuderla tu? no entra muoiti spegnete le luci niente non lo spengono l'ho spento a meno che non sentiti aprire la porta in quel caso proviamo a ma perché avete acceso le luci? a me non me la fa pegna ma finito di attaccare? no sto ancora attaccando forse l'ho visto staccato più andiamo in questo caso dovevamo per forza nasconderci perché? no non potevamo proprio andare da nessun'altra parte a meno che non volevamo andargli incontro proprio posso dire una cosa? comunque voi quando sta attaccando non dovete proprio fiatà perché io non mi posso far sgamà perché non mi sente proprio il microfono che non funziona ma non ci rileva raga ve l'ho detto perché sennò quando parlate pure l'elevatore del suono vi dovrebbe dovrebbe rilevare abbiamo fatto tutto però vediamo abbiamo capito che cazzo di fantasma è se l'avete messa eccola l'avevo trovata oggi c'è il capoccione vabbè vedi tu metti la tu era la 16 aspetta non premere non premere ok ma bisogna aspettare un attimo per le luci per chi la non si capisce non si capisce l'MF non ha suonato a livello 5 mi piglia un poco di pilloline qua bravo così può entrare ma quanto stiamo? siamo al 30% eh dabbi prendilo tu l'altro così se qualcosa attacca a me vai e prendi le pilloline ma perché devi fare l'eroe coraggioso? se gli fai fai può guardarmi no comunque non ci sono le sfere di luce no eh abbiamo soltanto un indizio ma che indizio che indirizzo abbiamo? temperatura di congelamento temperatura di congelamento e basta eh non problemi le torce l'unvi non mi rilevava niente ma vogliamo vedere se usiamo l'incenso ma se mi rimettessi in mano l'MF che a volte risuona 5 sì buona idea buona idea perché vuoi usare l'incenso Oz? non ci abbiamo un obiettivo per vedere come reagisce no? vediamo che fa è perché non so che altro possiamo fare capito? il libro il libro l'abbiamo spostato l'abbiamo messo al centro sì l'ho spostato l'hai messo al centro? boh io l'avevo messo dentro una cella che stava già al centro allora no allora non c'è scritto che l'abbiamo spostato quindi raga dobbiamo trovare se in protodigitale dove le fai le foto? ce l'ho ancora l'abbio eh lo butto il crocifisso che fa? no no portalo dentro ma perché te lo porti dietro? devi lasciarla là dentro infatti lo devi lasciare lì cioè butta la terra lì quando arriviamo da boh da qualche parte no comunque l'inquadratura è buona se non ci sono le sfere non ci sono no non ci sono le sfere no non ci sono le sfere se non ci sono non ci sono non ci sta però a volte sai che c'è che a volte non vengono proprio centrali uh ha mosso ha mosso ha mosso il libro sul tavolo ah si potrebbe essere un poltergeist comunque dice Erme che Asgat deve usare da solo la box la spirit box eh si giusto la spirit box e lo butta da dentro andiamo dobbiamo scoprire se risponde a tutti o solo a chi è da solo allora che mi porto dentro la spirit box eh già sta dentro ok eh che niente la telecamera porta un'altra telecamera magari la mettiamo da un'altra parte eh ma l'inquadratura è buona capito non ci sono le sfere che la portiamo a fare la candela la candela non serve a nulla perché comunque ci sta parecchia luce il calmante Dabi ah ma abbiamo tre calmanti vai prendiamo tutti e due però devo buttare a terra qualcosa se no me lo fa prendi eh lo usi e poi eeeh che altro posso portare non lo so fotocamera c'è l'ho torcia UV la portate voi e allora andiamo facciamo la prova dello spirit box non vogliamo fare la cosa come si chiama l'incenso l'incenso non lo volete fare provare l'incenso ok vai lo porto l'accendino ma che serve l'incenso a purificare magari se ci attacca però allora secondo me mi va di attaccarci per un poco l'incenso l'abbiamo la TEP si com'è mi pare che abbiamo lasciato un crucifisso la TEP si l'ho lasciato io ma lo metto allora ma prima di di entrare si appicciamo l'incenso cioè prima di entrare scusa ah nella nella hall lì non si pericolate le luci voi là infatti il tuo cappotto è rotto dietro ozzo c'è il cappotto con la toppa eh infatti eh ma questo lavoro non paga bastardo no in realtà in realtà uno schiatta così tanto che sulla porta hai visto ok io non voglio aprire vai metti più in alto ecco vai apri ok magari si incazza eh questo uso lo spirit box adesso? no aspetta fammi mettere il crocifisso il crocifisso mettilo da questo lato qua perché io l'ho buttato no io l'ho messo qua proprio vicino alla telecamera vabbè stanno il libro non l'ha fatto lo metterlo qua sopra magari scrive il conto Mersfizio io provo a parlare anche con voi magari mi ascolti dove sei? no dovete uscire perché pure prima ci ho provato con voi è uscito un attimo no povera Asgat se lo suonere dove sei? vieni qua davanti quanti anni hai? vieni a mia spalle sei amichevole? dove ti trovi? dove sei? dove sei? mi risponde proprio ragazzi quanti anni hai? no non è non è questo dici che non è? eh non mi ha risposto che potrebbe essere? che altro possiamo trovare? ragazzi non è impronte digitale ma aspetta aspetta no ragazzi comunque dobbiamo cercare l'impronta digitale vedete sulle mura sto cercando sto cercando allora il sale qui è stato calpestato quindi comunque lui c'è è qui non è al piano di sopra se il solitivo momento è suonato ha calpestato ovunque il sale no il sale no no ho fatto un'altra foto però sto fatto delle impronte digitale prima cosa è un demone quindi non seconda cosa se cammini nel sale dovresti lasciare già l'impronta digitale visto che è brutto è brutto poi l'impronta digitale perché è tutto aperto devi cercare sulle colonne forse la spirit box non ha suonato come ti chiami provo ad andare più avanti al centro della stanza e chiedere io lo chiedi da lì di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? si brutri spug ah mi rispondo come si chiama il tizio qua Marlon Brando come si chiama? patricia ora l'altro patricia ci sei? dove sei? ci sei patricia ah anche offenderlo va andava bene bastardo raga però dove sei? raga facciamo la fine dei polli qua ci stanno due crocifissi appena usciamo boom aspetta ma non usciamo siamo protetti di crocifissi qua se non abbiamo manco più che altro che cazzo dobbiamo che altro possiamo portare qua dentro dobbiamo solo provare a vedere se uscendo e rientrando scrive sul libro che l'ho messo sul tavolo qua adesso ma sei sicuro che sul tavolo funziona non è meglio per terra che ne so magari si trova più comodo che ne so le impronti ovvi non le lascia questo cristiano non lascia niente e lui se ne va no aspetta che dobbiamo portare più qua abbiamo portato tutto ragazzi dobbiamo trovarlo adesso le prove le provo le le provo le le prove manca allora il fatto che comunque guardate ma che abbiamo usato l'incenso non si sta facendo proprio niente si stavo facendo sentire e beh ci stanno anche i crocifissi 2 crocifissi vado a vedere vado a vedere il livello e se ne va e se ne va metabolica e se ne va no ragazzi devo solo controllare me ne sto scappando vabbè andiamo a prendere qualche altro sensore da mettiamo sensori mi sono rotta di stare a cercare le impronte digitali cioè non ci sono prova a vedere pure mentre torni magari si trovano anche in altre zone no le impronte dovrebbero stare proprio lì magari facciamo fortuna che ne sai ho sentito un rumore metallico io no io ho fatto rumore ma dopo che me l'hai detto di aver sentito il rumore eh si è attivato il sensore di movimento adesso o magari si è messo a scrivere perciò attivato il senso io porterei l'altra videocamera ha scritto la letterina da b tu hai portato ti sei portato dietro tutti gli oggetti no c'ho solo il UV boh porta la candela lo portiamo tutto vabbè porto l'infrarossi da b porta il sonoro mettiamo tutto qual è il sonoro questo qua che c'è davanti l'ultimo e come si mette io me non l'ho mai usato eh devi ti avvicinare la parete premia esatto poi che altro abbiamo da portare però guardate l'attività è proprio piatto eh capito il fatto che abbiamo fatto un po' di incenso secondo me l'ha proprio calmato se avete se avete qualche spazio libero portate pure la candela l'accendiamo l'accendiamo facciamo una scenetta romantica almeno l'accendino sta la candela allora la candela la candela serve quando fa saltare la luce e con la luce della candela comunque continuo a vedere ah comunque sai una cosa cioè non credo però mi ha rilevato a temperatura di congelamento oppure fuori da quel braccio lì eh non andiamo ma provo a mettere la videocamera prima prima di quando si entra magari sta là prima di quando si entra no il sale sta lì ha camminato lì ma è vero sta là dentro mi sta poco da fare ma avete chiesto voi questa porta ho chiuso io perché penso sempre che se ci devi inseguire perde tempo ad aprire ma sempre nella tua testa questo qua sta l'accendino io per la candela secondo me non perde tempo adesso c'è la temperatura di congelamento cominciamo di nuovo con l'uvì vediamo se è scritto sul diario segreto dove lo posiziono questo sensore ditemi voi mettilo qua no aspetta qua sul muro qua sul muro vai qua qua come si mette? eh ti avvicini appena ti esce la sagoma sul muro premi F ok ok ho una candela se vuole si aspetta aspetta prendo l'accendino e l'accendiamo cioè usiamo tutto quello che abbiamo l'accendiamo l'accendiamo senti io provo dove sei? vieni qua fatti accendi dove sei tu dove sei? vai alza un po' alza ok vai mettila sul tavolo ah vedete adesso giriamo teo signore giriamo intorno al tavolo infatti faccio una seguita spiega ma perché? che cosa ragazzi allora io non lo rilevo perché mi ha rilevato dei suoni intanto mi rileva dei suoni tipo da qua dentro due ore di panza del fantasma ma l'anogina non ha camminato sul sale strana infatti non è qua dentro se fosse dentro questa no neanche che l'ho messa nelle due celle e non ha camminato aspetta ma tu hai portato anche l'altra videocamera si l'ho messa l'ho messa all'altro capo della stanza capito io la dovrei rimettere secondo te buh ha fatto bene non sappiamo andiamo andiamo ragazzi scappiamo nell'altro braccio qual è? cazzo cazzo sinistra destra destra dove andiamo per di qua? si si vai diritto dove sei Asgard? sto qua dove state? oddio ci siamo persi cazzo cazzo dove scappiamo? non lo andiamo a cercare di qua ma dov'è ci sta inseguendo questo stronzo? non lo so sento i passi ma io sto scappando come un dannato lo sento non lo vedo porca puttana ci stiamo chiudendo noi stiamo provando a scappare ok ha smesso ha smesso mamma mia ragazzi lo sentivo vicino ma non c'era mi sono girato per fargli la foto ma non ho visto niente ma che dobbiamo fare? pensate ma quando è attaccato cioè non l'abbiamo visto uscire da dove abbiamo messo tutta sta roba io sono scappato e basta io mi sono girato non l'ho visto però sicuramente stava dietro di noi perché si attaccava da un'altra parte eravamo fregati io sento pure il suo rumore il verso no io ho sentito solo i passi però forse a me erano più lontani ma tu dove te ne eri andato scusa eh stavo a sinistra stavo camminando sull'altro coro e due ma stavo ah ho capito stavo passeggiando andiamo a vedere i vari sensori se ci aiutano un po' eh che c'è che ci possono dire eh ma mi sa che Dabby non l'ha messo il sensore sonoro no l'ha messo l'ha messo mentre io cazzo gioco con la videocamera ho visto quella cantina ma guarda ma attività zero scusa attaccato eh mo ha fatto zero attività è strano perché comunque ci ha toccati quindi perché non la rileva eccola dopo ecco qua uomo ha fatto il libro a terra l'hai visto? è del libro ma lo secondo me è un poltergeist potrebbe essere sì il poltergeist non è molto aggressivo no non lo so infatti si è si è si è si è si è alzato un po' l'attività ah questa cosa non ci avevo mai pensato lo spettro ha una reazione torsica al sale e che reazione fa? eh si vede che ha il colesterolo alto uh si è alzato qua il sensore sonoro mi sa che non è lo spirito perché non c'ha niente no non è aspetta qual è quello che non cammina sul sale spirito fanto oh si è mosso sì ecco qua infatti a camminare stava facendo pure i suoni là dentro guarda come ha aumentato l'intensità sonora perché? che ha fatto? no niente è semplicemente si è messo oggi l'onzolare là dentro eh ragazzi voi che ci seguite aiutateci che bestiai che dobbiamo fare? ragazzi che indizio abbiamo? solo niente solo niente sì abbiamo soltanto solo la temperatura di congelamento sì quindi con la temperatura di congelamento che potrebbe essere ma impossibile oh demon e lo scuderei eh sì se no ci avrebbe già attaccato molto più spesso allora il problema è che non ci ha dato né il spirit box né le impronte digitali né sfere di luce uno di questi tre abbiamo abbiamo sbagliato guarda se devo scommettere direi più sulle sulle impronte digitali che sono più difficile da trovare sì e mf non l'abbiamo neanche guardato più di tanto eh devo dire che poi mi sa che ce lo siamo scordati l'altro sì e anche questo è bello ci siamo dimenticati no piccolo mf lasciato da solo ma però possiamo dire che sfere di luce non sono quindi eh libro spiritico non sembra essere perché l'abbiamo lasciato in tutti i posti e non ha scritto ti trovi? sì non non ha fatto non ha reagito a nulla patricia martine mf e impronte digitali e quindi sarebbero un banshee mf e impronte digitali dici tu che effettivamente poi ha seguito solo te eh asper ma noi stavamo camminando tutte e tre insieme mh ma poi dipende sempre da come perché secondo me quando ti dicono che il fantasma attacco soltanto uno intendono che la caccia inizia già su una sola persona invece quando attacca tutti quanti ehm ha quei dieci secondi iniziali che vaga perché una volta ho visto che il fantasma è uscito dalla stanza andava a destra e a sinistra non ha attaccato subito no ho capito potrebbe penso eh non lo so comunque una cosa che mi fa pensare alla banshee è che dice come punto debole la banshee teme il crocifisso e sarà meno aggressivo vicino a uno di essi effettivamente avendone buttato i due crocifissi in là non è che ha fatto molto ma penso che comunque tutti gli spettri vicino ai crocifissi si fermino un attimo no no cioè nel senso magari è un po' meno ho capito mentre gli spettri i vari si fermano quando stanno per attaccare per iniziare la caccia si è fermata così però mia idea io stavo cercando non pensate che mi sono addormentata no stavo leggendo praticamente la comunità addirittura cosa dice comunità di recupero da fascofobie e che dice che dice ah stanno parlando delle attrezzature però è tradotto un po' male in italiano ti capisci in questo studio sensore del suono telecamera montata sulla testa così la chiamano è giusto si allora fantasma ecco qua finalmente sono arrivata che abbiamo come da scegliere allora Banshee aspetta che noi avevamo solo la temperatura di congelamento giusto si eh quindi spettro phantom Banshee male demone e yuray io direi una cosa noi abbiamo tutti e tre armati di macchina fotografica lo facciamo incacchiare e proviamo a fargli la foto scappando e poi ce ne andiamo non ho più la macchina ah qua ci stanno delle foto ok si a me sono finite con l'altra gli vuoi fare la foto perché perché magari vediamo se sparisce se sparisce quando scattiamo aspetta scusa è quello che sparisce quando gli fai la foto che penso che non è già il phantom era ah il phantom no si ok ok allora potrebbe lo chiamiamo per nome proviamo a come si chiama ha detto patricia martinez e sta un attimo alzando ma noi queste missioni che abbiamo fatto sempre yuray è stato no era sempre phantom e allora se non nome yuray comunque mi sa che dobbiamo aspettare un attimo vabbè no si sta aspettiamo che arrivi al minimo oppure ci meniamo così ecco che si sta muovendo lì no secondo me è la Banshee che sta andando proprio così alla ricerca di chi deve attaccare ma non trovo nessuno il sensore sonoro va andiamo 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 Dabby tu vedi da qua Dabby tu fai la cacca nel camion eh ti stai spaventando patricia martinez patricia ma vediamo se magari ha scritto su quel cacca di libro che abbiamo fatto la porta aperta comunque direi di non farla incacchiare subito fammi vedere se ha scritto sì perché secondo me questa si incacchia subito da solo ti dirò dici dici si io oggi tutta la giornata ho bevuto solo due bicchieri d'acqua eh l'acqua è un bel guarda ha chiuso la porta l'abbiamo chiuso lui sì no no ha chiuso lei io non ci ho pensato minimamente a chiudere la porta mamma che brutta storia ecco qua ci sta attaccando l'hai vista? no dove vai? scappa scappa io non la vedo ma non la vedo anche io oddio ha chiuso la porta dietro di me girati girati vediamo se sta qua tu guardami alle spalle Oz sì sì non vedo niente ma non sta qui non sta qui guardami alle spalle fatti vedere bastarda no dalle tue spalle non arriva nulla c'è nulla no io lo vedo perché c'è la luce sta per attaccare sta vicino ma non la vedo non sta qua dove cazzo sta stava facendo un giro lungo secondo me nella stanza non c'è ma non esiste aspetta un attimo i protodigitali i protodigitali le ha rilevate come le ha rilevate? dove le ha rilevate? ha rilevato i protodigitali le foto o vero? sì ho fatto la foto e come ha fatto? scusa che non ci stava neanche ho fatto la foto da qui da qui ho fatto le brutte digitali cia culo ma abbiamo lasciato la la cosa ovvi per caso non mi pare no il libro non ha scritto non ha scritto ma poi dove cacchio sta che non la vediamo arrivare forse sta da sopra può essere che sta sopra effettivamente non ci abbiamo pensato vuoi dare un'occhiata tu mentre c'è ragazzi le impronte digitali resta Banshee e Petro dai Banshee io ho deciso andiamo non voglio morire andiamo andiamo che poi non l'abbiamo vista minimamente ma questo è un dettaglio secondo me ecco sta attaccando di nuovo cazzo cazzo fa un culo ecco sta attaccando si nascondiamoci nascondiamoci qua nella porta la porta scaldiamoci ozzo chiudo io vai vai vada vada spegni la luce la vedo che sta camminando dove spegni la luce non lo so forse me la sono sognata io in realtà no guardate le telecamere guardate le telecamere eh lo sto guardando sto guardando ma non c'è non esiste non esiste è buggato è buggato cioè restate fermi in un posto secondo me non va a attaccare ah l'ho visto l'ho visto sta camminando sulla pedana sta sopra si ma il piano di sopra il bastardo ma che blocco perciò non arriva mai ora sta scendendo le scale che blocco vedi che blocco è quello là dove stavamo noi esattamente raga che vi ho detto prima i piani di sopra della prigione oh stasera non mi ascoltate dici dove sta ok è finito eh ora non lo vedo mi stai attaccando ma secondo me è sempre Banshee si è una donna comunque vogliamo andare al piano di sopra a vederlo no puoi andare a vedere al piano di sopra che altro c'è da vede scusate è me ragazzi io mocio la prima camera puntata sul piano dove scende no io direi che era Banshee e GG uff si è una donna non piaccapperà mai perché praticamente ogni volta perciò non la vediamo parte dal piano di sopra eh però il fatto che secondo me si ingrippa l'intelligenza artificiale non la fa beccata cioè non la fa scena io prima non la vedevo e stavo lì a guardare la stanza perché quella ancora doveva farsi la pedala di sopra le impronte digitali le ha prese perché qualcuno ha lasciato la torcia accesa ma dove siete? è vero guarda là impronte digitali tre addirittura raga mettiamo Banshee e basta perché era pure una femmina l'ho vista ma che c'è si vale anche questa cosa no 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 però la Banshee è solo donna mi so guarda la mia sanità mentale allora scusate un attimo vediamo un attimo Banshee che cosa c'era viva oh ragazzi ha fatto MF livello 5 qualcosa qual è la Banshee e spettro si che hai detto Dabbi ha fatto che ha fatto spegnere accendere qualcosa su un palo non so che ci si allena no quello è il sensore è il sensore che ha suonato ragazzi allora è Banshee Banshee perché lo spettro ci dà anche lo spirit box lo spirit box abbiamo provato solo lì ricordate che molto spesso è successo che muoveva gli oggetti si diciamo porter gas era Banshee era Banshee quindi vai guardate 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 vediamo se ci riesco muovermi anche aspettate aspettate ecco oh a me fa schifo questa cosa ma si piega in due vabbè andiamo senza senza è tutto molto bello andiamo si vediamo se le nostre intuizioni intuizioni ragazzi siamo stati un'ora le nostre veloci intuizioni se abbiamo ingarrato signora che abbiamo no è Banshee è Banshee è Banshee per forza è mo bello e buono è nato fantastico è uno spettro ma dai ma cosa ma che dice ma allora scusate ma ma però abbiamo guadagnato comunque 150 dollari lo spettro aveva che cosa era lo spirit box ma abbiamo fatto 3000 domande forse perché non stavamo abbastanza vicino boh forse perché non gli hai parlato sai che magari dovevi chiamarlo per nome sì però io non ho capito perché ha pestato il sale giù che stava su non lo spettro Autore dei sovrapposti